ciao gabriele ho letto la notizia su social che hanno rubato la tua maglia mi dispiace tanto io volevo fare un regalo ti voglio regalare la maglia del foccia e quando vuoi è la mia quando vuoi ti lascio anche fermare da tutti i miei compagni così c'è una piccola cosa da parte nostra per la cosa che è successo ciao e forza foccia